La tavola smeraldina ha rappresentato una bussola fondamentale per raggiungere il centro del cuore, per vedere con altri occhi che cosa siamo e che cosa possiamo diventare. Scendendo nelle profondità del nostro essere, in silenzio e rispettando il silenzio, si potrà divenire un essere tre volte grande, libero, forte, amorevole, unico, diradando le tenebre, divenendo guida sicura e fermo punto di riferimento per gli altri.